se abbiamo un messaggio ho sempre lei ho qualche informazione sono al crossroad decido dunque noi ormai avremo anche il memento da fare abbiamo tre casi ma soprattutto c'è colori della chihuahua da portare avanti a vedere come si sviluppa la storia con quella pratizia poi tra poco dovremmo andare consultava ecco una cosa gemelli custode siamo a rango 1 sappiamo è in dieci ranghi depositare una persona per farla acquisire una resistenza e un attributo da notare che qua c'è per esempio ti permette di fondare tre persone per crearne di più potenti tre in teoria hanno una sua importanza anche loro credo pizza beh anche lei volendo non ha una cosa vabbè se memento la sera non si possono fare quasi quasi potremmo andare a parlare con lei ecco un po' che non ci andiamo eh sì è quella lì quella della tizia che è picchiata dal marito e andiamo da lei aspettato non abbiamo niente a vita certo che vieni spesso qui frasi fatte ovviamente ma che viene spesso qui non abbiamo mai non mi importa basta che ti comporti bene ok ormai abbiamo fatto casino c'è ancora un bersaglio da identificare giusto potresti ottenere informazioni dal lavoro lavoro senti come viene giù là fuori ti sei bagnato no ma tu siamo in mezza manica perché non ti siede e non aspetti che smetta sono sicuro che hai qualche informazione per me è vero no vediti hai qualche novità sento di potermi avvicinare sento che si rafforzerà tra poco cosa vuoi fare vuoi passare il tempo con Oglia? passa col tempo ma da dove le prendi certe informazioni? questi fanatici sono spaventosi e ti va un drink? cioè per niente ci ritiene noi fanatici dei ladri fantasma ah c'è la simona simona la ragazza di zac che si è laureata con 90 centesimi facciamo un applauso quindi adesso è libera e spero che verrà a guardarci nel live vero? quello zac diglielo anche evil fa i complimenti un fansite o intendi il phantom affissionato website non sapevo che fosse così popolare tra i liceali non l'ho mai seguito con attenzione guarda l'atmosfera qua mi fa venire in mente l'esuel sitlary avventure della sierra della vecchia sierra se non vale la pena però forse dovrei tenerlo d'occhio vive ovviamente perché se si concentrano sui criminali da quattro soldi i ladri fantasma non hanno proprio nulla da fare perché come lo vedo io sono tutti minorenni e il loro leader è un babbeo perennemente annoiato ci ha dato il babbeo praticamente dovresti evitare le supposizioni stronza hai ragione la mia teoria è piuttosto traballante ma è due note io voglio insultarla inoltre se bastasse un istante per svegliare il cuore di qualcuno non sarebbero di certo annoiati e quindi anche l'altra teoria facci lecca beh non mi interessa molto scrivere articoli di intrattenimento sulle mode del momento ma vanno benone è giusto alcuni giornalisti che erano qui sembravano seccati dalla cosa giornalisti oh intendi Nakao e gli altri vuoi davvero paragonarmi a quelle iene? ah non mi offendere il lavoro li chiamano paparazzi alle loro spalle ma io sono una vera giornalista che differenza c'è vediamo ehi non volevo il parere di un ragazzino gli articoli di intrattenimento servono a vendere copie qua è sempre le caglie o le caglie di piedi o gli articoli di intrattenimento servono a vendere copie non importa che siano veri ah interessante in effetti è una fabbrica di balle a nessun interesse le notizie vere come no? a me si perché non cambi lavoro? manco per sogno di questo passo se smettessi a mettere la colpa della mia collega responsabilità congiunta che stronzata non ha fatto nulla non posso smettere e non mi renderò mai io non mi ricordo di niente ah ok vediamo si è accusato ingiustamente certo che si ma questa è mi piaciuta magari le altre non davano punteggi attenzione che non puoi saperlo perché se proprio non dà nulla vuol dire che non davano nulla almeno una nota io credo che te la dà che è il minimo da uno a tre no? per quanto a me sembra che una volta ci sono uscito quattro però mi sbaglierò io perché escono e poi vanno via quindi boh anzi lascia stare ah 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 però non sembra che ridare ma grazie a te ho avuto più tempo per le mie indagini scriverò un articolo che ti piacerà oppure lo dici te considerano un segno della mia gratitudine me lo immagino no? quella volta l'aero almeno tre esclusiva tutto sui fantastici ladri fantasma digitate 110 per la giustizia che ne pare? ah tranquillo farò sul serio d'altra parte te l'ho promesso mi accordo con noi a procedere senza ostacoli abbiamo preso questo allora poi chiede di scrivere uno scoop sconvolgente sì perché parallelamente lei in teoria appunto fa gli articoli in teoria anche per supportarci no? comunque se è un tipo strano però allo stesso tempo funziona nel nei palazzi per venire qui a singiù a quest'ora però è diverso il suo prima come suona pronto aspetta cosa posso parlargli davvero? ok vengo subito lavoro? no ho già staccato ho degli affari erogenti da sbrigare metti tutto sul mio conto la la chan si vede ma lo paga quel conto lì ogni tanto o non lo paga mai? dammi è così infantile quando arriva qualcosa per il suo incarico preferito si emoziona in quel modo comunque non dovesse andare a casa anche tu ma fai è riuscito a catturare l'interesse di Oya con le storie dei ladri del fantasma credo che il mio fascino sia aumentato da quanti secoli si vuole prima di aumentare le a 5 adesso quelli 62 69 ok dunque cosa faremo oggi? vediamo facciamo insieme anche perché è l'ultimo livello quindi mi sa che ci vorrà una vita facciamo insieme con quando abbiamo mangiato l'hot pot credite? questa volta il tesoro non c'è stato sembra una buona idea può servire a rafforzare il nostro legame di squadra posso farcela sono curioso di vedere le skill e le abilità della persona di Futaba perché per ora non è nel team no? proviamo a guardarlo ma non credo che sia ufficialmente nel team d'accordo io prendo una cola e un omelette con riso la voglio abbondante grazie basta pagare di più dell'abbondante non è ora è la stessa cosa il suo giro sta facendo i cazzi suoi tra l'altro quindi con chi stanno parlando? puoi pagare no ma è per il bene di Futaba ok però devi pagarla va bene sei in debito ok squattrinato l'artista è squattrinato prendo lo stesso extra large non si sa con chi stanno parlando ho mangiato un sacco futaba impressionante concordo il tuo appetito è una gioia per gli occhi il comodo matto per le donne perennemente a dieta questo ci prova con tutti facci caso anche Yusuke ci prova con tutte non nel modo ordinario ma alla fine non ti conviene provarci con me sai che mi sta venendo il dubbio che tra loro nasca qualcosa possa nascere qualcosa non lo so lo chiama Inari che maleducato Sojiro aiuto potresti finirla allora che ne dici sta facendo progressi tra l'altro c'è una cosa da dire io su reddit mi sono iscritto a vari subreddit dedicate a Makoto Hank lei si chiamano tutti Charge of Makoto Charge of Han Charge of Subasa è pieno di immagini create dalla gente praticamente alcune anche c'è anche quella di Wakami ce n'è dentro una che non l'ho ancora salvata molto porno direi molto entai mettiamola così ne ho beccata una di Aton lì che fa la famiglia con Makoto con i figlioletti c'è sempre c'è i fans che si dicono queste cose allora che ne dici sta facendo progressi penso di sì ok mettiamola così ehi ragazzi faccio un bel caffè offre la casa in vela di gentilezza sì un po' sono entai un po' sono ammattoriali proprio ammattoriali un po' di tutti i tipi no a volte parlano dei personaggi però mi fa spezia non so perché l'han chiamata Charge of cioè la chiesa di Makoto la chiesa di Han ma ci sarà ci deve essere un motivo che al momento non saprei grazie io voglio un Ice Seed Cocoa ma cos'è un come si chiama un Ice Seed Cocoa ghiacciata cos'è in realtà sta parlando di caffè quindi vabbè anche tu non vai matto per l'amaro vero ah ok non è un caffè appunto Ice Seed Cocoa pure per te boh sarà tipo un tiro che c'hanno in Giappone sì assolutamente super freddo meno 80 gradi grazie che pranzo vivace è la prima volta da queste parti in realtà credo che sia una cosa vecchia perché ci sono anche le charge dei personaggi molto vecchi c'è C è quello del 4 ma anche dei persona 2 quindi probabilmente è una cosa che nasce da lì per un qualche motivo non so perché non li ho non li ho giocati i primi ehi che pranzo vivace è la prima volta da queste parti proprio divertente ok già sera ehi cosa pensate che dovremmo fare per la gita alla spiaggia secondo voi potrà partecipare così presto ehi in effetti è cominciato a parlare molto di più ha fatto molti porghessi il palo di Tsubasa ovviamente se consideriamo in che stato era l'inizio quindi ci futava pensi poterlo fare magari domani ok domenica in spiaggia mi sa domani è troppo presto ma va l'importante che smetta di piovere voglio prepararmi quando ti andrebbe bene a mai vediamo dovrebbe andarmi bene dopo domani ma vabbè va bene il 29 questi vanno in spiaggia il 29 agosto è da notare che sta piovendo da giorni almeno credo allora andremo dopo domani se non te la senti faccelo sapere Futaba ok tutto bene posso farcela non domani ma dopo domani hoppa finalmente sappiamo quando finiremo la spiaggia è dietro l'angolo quando finiremo bene bene ne abbiamo fatta di strada chissà come andrà domani ho tre messaggi facendo di casa c'è un sacco da fare un po' di tempo sempre loro notare che non ci chiamano più nessuno sono solo queste facendo di casa decidi in seguito c'è un sacco da fare decidi dopo il 29 c'è la lotteria non stavo già dimenticando il tempo oggi vuole fare una partita vuole provare una mossa a vedere se sei migliorato che ne dici stiamo anche su legame stiamo migliorando verifichiamo un attimo non sappiamo no questo cos'è ti permette di tentare la fuga anche se è secondato questo qui non è male dice che è presto proviamo ad andare ancora da lei vai subito allora ci vediamo in chiesa proprio così il tuo prossimo avversario sarà finalmente un professionista sono adesso un professionista il mio cliente è un pezzo grosso dell'associazione professionisti me la sono lavorata per bene pensavo fosse sua madre ma può essere però ma questo ragazzo è un tuo fan i fumi disabilitiamo l'auto no madre è sua madre mi sembra piuttosto piuttosto rigida è il mio amico di shoji te ne avevo parlato non ti ricordi adesso ci vuole vedere la carta di identità un amico di shoji non solo anche un amico di letto lascia che ti dica una cosa spero che tu non nasconda qualche bizzarro sentimento per i fumi mandala a lei che sguardo madre sono certo che tu lo sappia già ma non ti ha consentito uscire con nessuno signorinella scopo amicizia sta tirando un sacco di nuovi fan maschili grazie alle tue foto sì madre non sapevo che avesse fatto un calendario potrei avere 50 tipi come lui una volta diventata famosa appena esci facciamo lo sgambetto così terra e si spaccano la gamba voglio che tu abbia successo in tutto ciò in cui ho fallito eccola qua ora vado al lavoro non aspettarmi alzata per carità ma chi ti vuole aspettare capito bisogna salvarlo da questa strega ti chiedo scusa deve essere stato uno shock spaventosa questo ci dobbiamo indagare questo diciamo un po' ma sta anche bene niente appuntamenti voglio indagare sul loro rapporto se me lo fa fare sì il sogno di mia madre il padre è malato e non può lavorare perciò è mia madre a mantenersi cosa lo fa dirigente di un carcere una volta faceva la presentatrice tv ma ha dovuto lasciare tutto per prendersi cura di papà mio padre era un pro player di shoji wow è un tipo calmo ma quando gioca percepisci la sua passione come lei non esitava mai nelle sue mosse come un re lo ammiravo molto così ho iniziato a giocare a shoji dopo aver investito tutto se stesso in uno shoji un giorno è collassato all'improvviso agli occhi di mia madre lo shoji le aveva sottratto sia i suoi sogni sia suo marito adesso spinge la figlia a giocare a shoji eppure vuole che io continui a giocare vuole che io realizzi i suoi sogni vorrei darmi da fare per aiutarli a mantenerci voglio diventare una professionista e raccogliere abbastanza soldi per alleviare il loro fardello tu leggi la mia mente deformata ha letto voglio raccogliere abbastanza soldi per poter aprire un bordello ti giuro con la coda dell'occhio non so perché ho letto per aprire un bordello faccio foto e interviste sperando di migliorare il nostro reddito familiare francamente è difficile per me l'hai detto a tua madre dai i chiodi beh lei è certamente contenta di stare di nuovo a contatto con i media come un tempo tuttavia nessuno mi considera più come una giocatrice di shoji non riconosco più le mie abilità ma infatti non ho ancora visto note io sulla sua testa io non gioco a shoji nella speranza di intera un idol io amo semplicemente la mia famiglia e voglio sostenerla ai nostri problemi ma vai 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 non so vai vai rafflesia così non va bene non dovrei concentrarmi su temi così negativi prima di un match tra l'altro non abbiamo io non ho ancora capito quale sarebbe il locale il locale notturno dove dovremmo andare a lavorare noi a meno che non è tipo a chi ci giochi bisogna andare a guardare dai giochiamo oggi ti attaccherò con parecchie mosse offensive ti insulta praticamente sei uno stronzo sei così imparerai a sfuggire dalle situazioni più svantaggiose esatto siamo qua a imparare questo dipita molto più di me adesso mi dice sparita mi sembra adesso che siamo a 5 non ci chiede più niente boh vedremo ok però non come mai nessuna nota sei pronto Laura la mia palpebra ha un tick ora è tempo di scatenere il mio occhio malvagio segreto Sauron ciao Zark il combattimento sia legale sia legale mi ha aiutato a affinare la mia conoscenza un punto un punto mi dai da un punto alla volta diventiamo eruditi nel 2022 io non è andata così male continueremo le lezioni la prossima volta vabbè siamo scarsi ok pvp oh ciao è un attimo mi scuso per i miei modi sgarbati di mia madre prima ultimamente nervosa i miei fan maschili la preoccupano volevo offenderti spero che accetterà le mie scuse in sua vece si scommetto che lei non si è scusata te la inventi tu non si preoccupare grazie è un sicuro di parlarle di te ma non di quell'altra cosa fatte le mie scarse capacità a rendere mia madre ipersensibile voglio migliorare per diventare una giocatrice affermata e per far stare tranquilla mia madre quindi ecco impegniamoci entrambi per i nostri obiettivi a presto io sono un obiettivo portarti a letto e tutto è finalizzato quello non ci interessa domenica manca solo un giorno e domani tutti in spiaggia ricordiamoci della lotteria ehi ci sei ti chiedo scusa ma mi serverebbe una mano con i piatti da fare i piatti ah non stava parlando con noi anche futaba questo significa che non solo daremo una mano con il locale ma dobbiamo anche fare da babysitter prima si comincia e prima si finisce vuoi qualcosa futaba? si andare a casa mi sa succo d'arancia naturale al 100% attenzione parla una che fa una vita tuttamente insana però si preoccupa di quello che mangia a proposito domani andrete in spiaggia vero? è un dato di calore oggi guarda il caso divertitevi ve lo meritate dopo la faccenda del festival cercate solo di non fare troppa baldoria chissà cosa volerà e cosa si sfumerà e cosa si farà in realtà Evil lo fai quando lui non c'è quindi festival? ah già non lo sai sono andati a un festival di fuochi d'artificio ma si è messo a piovere speriamo che non piova anche stavolta solo ha dovuto sgomitare tra la folla ma è anche tornato a casa zuppo dalla testa ai piedi occhi d'artificio è scappato guarda che cucciola sempre dietro di noi salve anche c'è benvenuto così alto oh tu sei? mi conoscete? un momento non sei forse sono a Kachi sono a Kachi oh sì quello della tv e tutto il resto allora cosa ti porta qui mister detective? questo posto è anche meglio di quanto mi aspettassi c'è un'atmosfera magnifica non mi meraviglia che Sai e San me l'abbia consigliato è stato assai di venire qua già detto a quella donna tutto quello che so non ho nient'altro da dirvi non so se hai capito non ho nient'altro da dirvi oh no come no è venuto qui a caso non è mia intenzione sono solo qui per un buon caffè sì oh ma credici eh e lei è? oh deve essere la figlia di Wakaba Ishiki cioè è venuto a caso ma sa anche chi cavolo è lei cioè cosa ha visto una foto una foto una foto una foto tu dimmi come fa a spazzarsi per una visita innocente questa cosa ti porto? ho avuto quale ti recommendi oh faccia lei devo dire che ha parlato con Sai Sai ha detto tutto ti vorrà un attimo sembra che ovunque vada la mia presenza non sia gradita chissà perché grazie per la per il follow sorprendente sorprendente non succede solo qui cosa facciamo lo umiliamo facciamo ignorri e questo è leccagli i piedi non succede solo qui adesso è farlo ignorri e questo è facciamolo in tono ironico sorprendente vedi che è rimasto senza parole ti ho infassidito e mi scusa ha capito l'ironia per caso perché mia madre avesse una relazione con un balordo si e sei nato tu per caso la abbandonò come non appena venne a sapere della gravidanza e mia madre morì per la disperazione perfetto ma perché adesso ha questo input di di confessione a causa sua passai in affido da una famiglia all'altra ormai però me la cavo anche da solo poverino ma allora noi pensavamo male di lui ma ecco perché cerca le attenzioni perché non le ha avute da piccolo dai genitori quindi ha il complesso di inferiorità interno e deve farsi valere stava guarda che sta recitando ah si Majed è curioso che sia è una visita così casuale curioso che sia stato messo al tappeto da un altro hacker ma è chiaro se Majed sia stato sconfitto dal ladri fantasma o da un loro zelante sostenitore la Mishima guarda oh tu sei Futabachan giusto Paisan mi ha parlato di te ma ti ha fatto vedere anche una foto però ma che molti ragazzi attualità siano fan dei ladri fantasma e lui questa cosa ovviamente non la sopporta e tu li ammiri che c'è io sono una ladra fantasma no anche tu stai spopolando Grand Detective Akechi grazie forse non ha capito il tono però potrei preferirei non essere paragonato a individui come i ladri fantasma se possibile non so perché ci arrabbia con noi questo è squisito bevi questo caffè tutti i giorni sono terribilmente invidioso scolta non ti faccio lo sconto non immaginavo che alloggiasse in questo locale deve esserci un legame di qualche tipo tra di noi ma non è venuto una volta in un locale Akechi evidentemente no lui abbiamo sempre avuto l'approccio del del dire di andare gli incontro no per vedere andiamo avanti con questa linea concordo grazie in realtà lo stiamo scusamente sfottendo la mattina e la sera ma forse che sia il destino a far incontrare le persone è strano ma parlare con te è molto stimolante occhio che noi siamo credo di aver trovato il mio locale preferito sì sì è quello il motivo ovviamente vedi intanto non ci abbiamo guadagnato niente ne perso niente potevamo insultarlo in effetti conosce Akechi quel tizio fastidioso ogni volta che lo vedo cambio canale altro che rompere le palle ma in realtà può essere che questo odio qua che stiamo vedendo è perché lui ce l'ha contro i ladri fantasma quindi automaticamente se quelli che sentiamo sono nostri fans perché sono nostri fans chiaramente ovviamente non ce l'hanno impossibile che i ladri fantasma siano cattivi bene è disperato mi fa pena ci sarebbe ci starebbe bene ma non credo che useranno mai se ci fosse proprio un certo punto un suicidio mi piace perché loro fanno la storia cioè il gioco è vietato i 18 però per ora non è che abbiamo visto chissà che cosa in appena 80 ore quindi però se lo trovate se Akechi dopo un certo punto c'è una discesa e lo troviamo vieni fuori subito sono fuori alle blanche ho capito sono fuori dalle blanche voglio accendere dei fuochi d'artificio ma figurate se sono una nerd poi non gli piacciono anche le esplosioni ci va ne ho comprate un po' fidata con Morgana trovata da sola ho incrociato Mona mentre tornavo indietro certo che Mona a me piace proprio come nome cioè Mona ma vai in Mona cioè in realtà non mi insulto se non ricordo ma quindi vado a chiamare Shojiro ma posso vedere che se chiamano Shojiro adesso gli dici di non fare un cavolo mi ero preoccupato quindi ho deciso di seguirla però è riuscita a comprare tutto da sola direi che ormai è la cavola grande e poi si è destreggiata bene con quel detective si non è più la persona di prima ovviamente si è risvegliata la persona Shojiro sbrigati dai stiamo per fare un festival di fuochi d'artificio aspetta Futaba fammi almeno spegnere una sigaretta come non è contrario e si fa le spavole tutti insieme nel genere e attenti con quel fumo attacchiamo i fuochi d'artificio questi attacco supremo doppio stai assento ehi al gatto da fastidio il fumo tienete lontane le fiamme adesso prende fuoco il gatto wow questo era enorme Shojiro guarda qui però fai attenzione ok ma boh io non ho visto nessun lampo mi è stato da ricordare eh diciamo così okidoki ora ne accendo dieci in una volta sola si ottima idea vuoi perdere la mano nooo e non ce la fa vedere basta cioè l'ha tagliata un po' mi considero una specie di giocattolo pipipim ciao 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 ciao